Un bambino di 10 anni è stato sorpreso da un drone mentre appiccava il fuoco a Zungri, in provincia di Vibo, Valencia. Le immagini diffuse in un video su Facebook dal presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, mostrano il bambino che una volta scoperto corre verso il nonno che gli avrebbe detto di appiccare il fuoco e che reagisce imprecando contro il drone. Ochiuto ha commentato così, si può chiedere a un bambino di 10 anni di appiccare il fuoco, la Calabria non è questa, è fatta di tanti bambini e persone civili. Ochiuto ha poi mostrato immagini di un altro incendio, di alcuni rifiuti nei pressi di un fiume e ha chiuso, sono impegnato a difendere la Calabria contro l'inciviltà di certi criminali, io non mi arrendo, beccheremo altri piromani. La maggior parte dei calabresi ha amore e rispetto per l'ambiente, quanto ne ho io. Almeno 32 i piromini colti sul fatto grazie ai controlli effettuati anche con l'utilizzo dei droni.